Sono Luigi Benedetti, il titolare dell'azienda Gardaflor, situata a Padenghe, sul Garda, in provincia di Brescia, sul lago di Garda. Noi ci occupiamo di tutto quello che concerne il verde, dalla manutenzione dei giardini al garden center, con servizi per il verde, terrazzi, matrimoni, vendita al dettaglio di piante e fiori e tutte le piante, anche orto, tutto quello che concerne il verde nella casa e nel giardino. Collaboriamo con Bottos da più di un decennio, è un'azienda specializzata per quanto riguarda i tappeti erbosi, per cui danno una gamma di prodotti a 360 gradi e siamo molto contenti perché con la specializzazione riescono ad avere dei prodotti eccezionali e vediamo anche, abbiamo il riscontro dei nostri clienti che ritornano e acquistano, diciamo, il prodotto Bottos. Non abbiamo solo questo prodotto, per cui vediamo che però il cliente è orientato su questa marca. Gardaflor, siamo qui a Padenghe sul Garda, vi aspettiamo, ciao! Grazie a tutti!